Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. Pettatore, prega per noi, Pettatore, adesso è nell'ora della nostra morte. grazie 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 Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e secoli, e secoli, Amen. Maria, Regina e Madre della Pace. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'Angelo a Maria. Paolo, vai. Padre nostro, tu sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi il primo mondo intero. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Paolo, Padre nostro, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi arriviamo ai nostri debitori, e non abbandonarei la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più sognose dell'arcolla misericordia. Maria, Regina e Madre della pace, prega per noi il mondo intero. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri lieviti, come anche noi rimettiamo ai nostri lievitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri lieviti, come anche 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 noi i nostri lieviti, come noi i nostri lieviti, come noi i nostri lieviti, come noi i Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, amè Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel mondo. Dio, prega per noi peccatori, adesso e nel mondo. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli e sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Del quinto mistero contempliamo la presentazione, il ritrovamento di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei Cieli, si santificate il tuo nome, venga il tuo regno, e se faccia la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che noi diamo ai nostri debitori. E non sognuna in felicitazione, ma liberaci dal male. Ave, ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E se la benedetta fra le donne è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per il mondo intero. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E se la benedetta fra le donne è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per il mondo intero. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E se la benedetta fra le donne è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per il mondo intero. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amè. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi e per il mondo in te. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. A te clamamos, et sulle spigli di Eve, a te suspiramos, gementes e frentes, in a lacrimarum valen. Eia ergo, Avocata nostra, e los tuos misericordes oculos, a nos converten. E Gesù, benedictum fruttus ventris tuis, nobis, ox solecilium, ostendez. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre Celeste, Dio, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Prega per noi. Prega per noi. Prega per noi. Ma di quella madre della Chiesa. prega per noi prega per noi, 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 prega per noi. 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 Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché saremo degni delle promesse di Cristo. Prega per noi. 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 Prega per noi.